Benvenuti a un nuovo appuntamento con l'Agenda del Tempo Libero. Da lunedì 17 a domenica 23 settembre, tanti appuntamenti all'interno del settembre San Nazarese 2018. A Civico 17 di Mortara, mercoledì 19 settembre, scorpacciata di paure della compagnia teatrale instabile Quick. Numerosi incontri e mostre a Voghera Fotografia, da venerdì 21 a domenica 23 settembre. Ultimo appuntamento del settembre folcloristico delle Bozzole, sabato 22 e domenica 23 settembre. Allo stand della Festa della Bozzola si può gustare una grande varietà di piatti, pizza, trippa, pappardelle, grigliata di carne, totani e rane. Nelle due serate anche grande intrattenimento musicale, sabato 22 settembre Lisa Tassi e Davide Trotta, domenica 23 settembre, Barbara e Lorenzo. Sabato 22 settembre vigevano Sianima con la notte che non c'era. A Carbonara Ticino, sabato 22 settembre, grande raduno per i fan del film Il ragazzo di campagna. All'auditorium a Certosa Cantù di Casteggio, sabato 22 settembre, resita il pianistico. Sabato 22, domenica 23 settembre, visita al castello Visconteo di Pavia, da cui Messere si domina la valle. Domenica 23 settembre, numerosi appuntamenti nella nostra provincia con le camminate lungo la via Francigena con partenza da Palestro, San Giacomo oppure Carbonara al Ticino. Sagra del Fungo e del Miele, impianza dal verme a Zavattarello, domenica 23 settembre. Musica San Dionigi, domenica 23 settembre a Vigevano, la chitarra e il folclore libero latino. Domenica 23 settembre, la ventiquattresima fiera di San Damiano a Montesegale offre tantissimi eventi. Alle 10, mercatino enogastronomico, dell'artigianato e degli antichi mestieri e mostra di funghi. Dalle 12, possibilità di pranzare negli stand gastronomici degustando prodotti d'eco e vini dell'oltrepo. Nel pomeriggio, osservazione al telescopio e torneo di tiro con l'arco. Inoltre, alle 11.30 e alle 15.30, rievocazione storica sotto le mura del castello. All'ombra della Certosa di Pavia, domenica 23 settembre, ritorna il mercatino enogastronomico. Sempre domenica 23 settembre, sulle tracce del Lupo inoltre Po, a Minconico. Pavia, città d'acqua, degustazione e visita al Borgo Ticino di Pavia, domenica 23 settembre. È tutto, per le vostre segnalazioni chiamate il numero 0381092525 oppure mandate una mail a pubblicità-telepavia.tv